A buon respiro dottore, sono stati periodi veramente bui, ci siamo trovati all'improvviso con il 45% del personale in meno e con un aumento esponenziale, contagiato sì, e un aumento esponenziale delle chiamate, siamo passate da gestire una media di 600 chiamate al giorno, in una giornata ne gestivamo anche 2.500, 3.000. In quanto tempo riuscivate a mandare un'ambulanza? Sui codici verdi alcune volte aspettavano anche 6-7 ore, sui codici gialli riuscivamo nell'arco delle 2 ore a devandere la richiesta, ma non è mai stato visto una carenza così, una sproporzione tra richiesta e... Le ambulanze sono arrivate sempre in tempo? Non sempre, alcune volte dal momento della chiamata arrivavamo in posto e trovavamo la persona già deceduta, purtroppo. Chiamano la prescia 12? Prescia 12, chiamano, chiamano. Tante volte ci siamo trovati magari in un angolo a piangere perché ci rendevamo conto che la situazione era più grande di noi, non riuscivamo a stare dietro a queste inconvenienze.